Nel corso della storia, individui saggi e perspicaci hanno percepito l'avvicinarsi di potenti forze cosmiche. Le storie tramandate da generazioni segnano questo momento come cruciale nell'evoluzione umana. Sta accadendo un grande evento cosmico, in cui frequenze armoniose si allineano come pezzi di un misterioso puzzle proveniente da oltre le stelle. Gli esperti cosmici parlano di linee di energia che si uniscono attraverso la Terra, risvegliando un potenziale non sfruttato nelle nostre menti collettive. È come se un orologio cosmico segreto si fosse messo in moto, portandoci verso un momento di grande cambiamento. Le antiche civiltà hanno codificato questa imminente era di illuminazione nelle loro imponenti piramidi, e zigurat. Questi luoghi sacri sono ora in fermento per l'evento cosmico. Un gruppo segreto noto come gli illuminati ha custodito queste antiche conoscenze, nascoste nei loro oscure biblioteche, prevedendo questa convergenza celeste e l'inizio di una nuova era di compressione umana. Gli esseri extraterrestri avanzati veliano sulla crescita spirituale della Terra. Sono pronti ad aiutarci a subire questa trasformazione cosmica, spingendoci verso un nuovo livello di consapevolezza ed espandendo la nostra compressione della realtà. Al di fuori della società tradizionale, veggenti e sensitivi parlano di esseri di luce che vengono sulla Terra per innalzare le frequenze vibrazionali di tutti gli esseri viventi. Questi esseri, chiamati maestri ascesi, sono anime illuminate del passato che ritornano per risvegliare il potenziale dell'umanità. Con l'avvicinarsi dell'evento, appaiono segni e presagi che suggeriscono un grande cambiamento cosmico. Eventi celesti come piogge di meteoriti e comete, indicano un imminente allineamento celeste. Anche le aurore mostrano la loro bellezza come se annunciassero una nuova era. Nei luoghi misteriosi, i sussurri sembrano portare con sé segreti in attesa di essere svelati. Dai deserti alle giungle, emergono misteri enigmatici che offrono indizi a chi è disposto a guardare oltre la superficie. L'umanità è sull'orlo di una profonda trasformazione, mentre la sinfonia celeste raggiunge il suo colmine. La mente collettiva si prepara a liberarsi dall'ordinario e ad abbracciare infinite possibilità. Con il passare del tempo, i segreti dell'universo si sveleranno, e l'umanità sarà testimone dell'insondabile razzo dell'esistenza. Nonostante l'incertezza, la speranza brilla dentro di noi, perché l'attivazione dell'ascensione di massa promette più di un semplice spettacolo cosmico. Significa un profondo cambiamento nella coscienza umana, che spinge ogni persona ad abbracciare il proprio potenziale, e a liberare il proprio vero sì. Le energie della convergenza celeste ci incoraggiano a lasciare andare le limitazioni e le paure, liberandoci dai fardelli del passato e dalle ansie per il futuro. Con l'ascesa, i confini materiali si dissolvono e riconosciamo la nostra interconnessione. È una trasformazione spirituale. L'umanità si evolve in una razza compassionevole, empatico e unificato. Nazionalità, razza e credo diventano insignificanti, sostituiti dal riconoscimento della nostra eredità cosmica condivisa. Cominciamo a vederci come riflessi della stessa luce divina. Quando ci allineiamo con le frequenze più elevate dell'esistenza, la nostra percezione della realtà subisce un profondo cambiamento. Diventiamo in sintonia con il ritmo dell'universo, guidati dall'intuizione e sperimentiamo le sincronicità. Nella quinta dimensione, il tempo diventa flessibile e ci invita a vivere nel momento presente. Questa maggiore consapevolezza ci permette di attingere al potere della manifestazione. I nostri pensieri e le nostre intenzioni plasmano la realtà attraverso la legge dell'attrazione, dando vita ai nostri sogni con maggiore velocità e precisione. I veli vengono sollevati e ci permettono di accedere alla biblioteca cosa della saggezza universale, i registri akashici. Questa vasta fonte di conoscenza ci aiuta a scoprire il nostro vero scopo, e ci motiva a elevare l'umanità e a riportare l'armonia sul pianeta. Nella quinta dimensione prevalgono l'amore e la luce, e le energie di guarigione fluiscono senza sforzo, favorendo l'evoluzione collettiva e riparando le ferite del passato. La vita diventa più vibrante e bella, uno spettacolo continuo. Anche se in questo percorso ascendente possono sorgere delle sfide, la resilienza dello spirito umano ci guiderà attraverso di esse. Troviamo conforto nella nostra interconnessione e la compassione si diffonde in tutto il mondo, dissolvendo le divisioni. In questa nuova era illuminata, celebriamo la diversità dell'esperienza umana riconoscendo la nostra fondamentale unicità. Arti, scienze e spiritualità si fondono in armonia, creando un ricco arazzo culturale. L'attivazione dell'ascensione di massa ci ricorda che la nostra evoluzione è un viaggio continuo, e che la destinazione è illimitata. Ci chiama a diventare architetti della nostra realtà, co-creando un mondo che rifletta il meglio dell'umanità. Quindi, abbracciamo l'emozione di ascendere alla quinta dimensione. Insieme, supereremo le limitazioni del passato e abbracceremo infinite possibilità. La sinfonia cosmica attende il suo armonioso crescendo, dove, unita nel cuore e nell'anima, l'umanità danzerà tra le stelle. Con i cuori e le menti aperte, scopriremo l'infinito potere della nostra coscienza collettiva, trovando le chiavi dell'universo dentro di noi. Vi amiamo profondamente, siamo qui con voi, siamo la vostra famiglia di luce, siamo la Federazione Galattica. A.O., Aurora Ray, ambasciatrice della Federazione Galattica. A.O., Aurora Ray, ambasciatrice della Federazione Galattica. A.O., Aurora Ray, ambasciatrice della Federazione Galattica.